Se proprio non si riesce a curarla, tanto vale farne un parcheggio, la villetta di via Gerobino Piglia, Camaro e quanto di peggio si possa immaginare in una città, sporca, abbandonata, vandalizzata, la provocazione di farne un'area di sosta per auto e del consigliere del terzo quartiere Alessandro Cacciotto e del consigliere comunale Libero Gioveni. Quest'ultimo, quattro anni fa da rappresentante del quartiere, aveva denunciato le condizioni dell'area anche ai nostri microfoni, ma le amministrazioni comunali, compresa quella ambientalista del sindaco Renato Accorinti, questa villetta l'hanno proprio dimenticata. Sette ideale per un film dell'orrore attraversa senza mutazioni tutte le campagne elettorali e pensare che potrebbe essere un punto di ritrovo anche come riferimento delle attività commerciali presenti in zona e invece nessun intervento da parte del comune ed ovviamente laddove la terra diventa di nessuno, gli incivili hanno il sopravvento, sporcizie ovunque e danneggiato tutto quanto era possibile danneggiare. L'assessore all'arredo urbano Daniele Ialacqua decida cosa fare di questa villetta, fosse anche un parcheggio almeno illuminato e senza spazzatura. Grazie a tutti.